Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Elisabetta Gregoracci sta passando un momento difficile, ha perso una persona a lei molto cara. Lo ha annunciato su Instagram, lasciando i suoi fan in una situazione di dolore e compassione. La conduttrice e modella si era già mostrata meno presente sui social, dove di solito condivide momenti della sua vita quotidiana. I suoi follower, preoccupati, avevano notato la sua assenza, ma avevano deciso di rispettare la sua privacy, attendendo che fosse lei a parlare quando fosse pronta. Ora, Elisabetta ha deciso di spiegare cosa stava succedendo. Ha detto che la ragione del suo recente silenzio è stata la perdita di una persona a lei vicina. Ha aggiunto, ho perso qualcuno che mi era molto caro, ma rispetto la volontà della mia famiglia di mantenere riservatezza. È stato un periodo davvero difficile, perché questa persona significava molto per me. Nonostante il dolore, Elisabetta vuole andare avanti. Anche Flavio Briatore, con cui non è più in una relazione, le sta mostrando supporto, a dimostrazione del forte legame che continua a unirli.